Il coraggio di andare Qui sotto puoi dare un'occhiata al calendario, scegli lo show più vicino a te. Per la tournée 2019 di Laura e Biagio sono disponibili in prevendita esclusiva dalle ore 13,00 di lunedì 3 dicembre fino alle ore 13,00 di martedì 4 dicembre per la due fan base degli artisti per gli iscritti al fan club ufficiale di Laura Pausini e per gli iscritti alla newsletter di Biagio Antonacci. Dalle ore 14,00 di martedì 4 dicembre saranno invece acquistabili sul sito di Ticatone e dalle ore 11,00 del 6 dicembre nei punti vendita abituali si potranno acquistare massimo 4 biglietti ad utente per ogni stadio.